I comaschi familiarmente lo chiamano il Caio. Il vero nome è Istituto Tecnico Economico Statale Caio Plinio II che in questi giorni celebra il 150esimo anniversario caduto a ottobre 2015. Festeggiamo a maggio perché vogliamo festeggiare anche con altri. Festeggiamo con la famiglia del Preside Grandi. Il 3 maggio ricorre l'anniversario della sua morte e anche tradizionalmente è sempre stata la data in cui si inauguravano le nuove sedi. Numerosi gli appuntamenti per le celebrazioni. Oggi in biblioteca un approfondimento sulla storia della scuola comasca. Ci saranno altre giornate in cui guarderemo al presente e al futuro. Una giornata sarà dedicata principalmente al discorso economico e un'altra giornata invece al turismo che sono i due indirizzi che sono all'interno del nostro istituto. Informatica, marketing e turismo sono i punti di forza oggi di una scuola capace di cambiare pelle mantenendo la sua identità votata alla formazione tecnica. La vecchia professione del ragioniere ormai è diventata il management, ormai è diventata capacità di lavorare in team, ormai è diventata capacità di relazioni. Oggi il nostro paese ha bisogno della formazione tecnica e ha bisogno che questa formazione sia sviluppata e resa ancora più forte. L'istruzione tecnica possiede, come un giano bifronte, da una parte c'è un versante umanistico e dall'altra c'è un versante operativo.